Questa amministrazione, quindi senza coinvolgere nessuno, senza dire nulla a nessuno, noi siamo in consiglio e non abbiamo saputo nulla, un sabato mattina la chitichella, quindi la scelta anche del giorno, hanno chiuso la strada, non hanno avvisato nemmeno che veniva chiusa la strada e hanno fatto questa demolizione, quindi ora tutti gli aspetti formali li valuteremo e andremo fino in fondo, però quello che è allucinante si è persa questa bellezza di questo edificio, perché era un edificio bellissimo, ha una storia importante che va oltre il meglio evo. A chiedere chiarimenti in merito alla demolizione dell'antica casa colonica di Piglia a Subbiano sono i tre consiglieri d'opposizione, David Faltoni, Vasco Bobini e l'ex sindaco di Subbiano, Ilario Maggini. Qui hanno fatto uno scempio, uno scempio veramente importante, perché questo è il regolamento del piano strutturale, il piano strutturale più di grande è vincolato, c'è una schedatura 1-6-1939, si parla di interesse storico ed artistico, con un sito archeologico, c'è scritto anche sulla schedatura. Poi è schedato il restauro di sanamento conservativo, non si può demolire, bastava fare questo e allora hanno demolito, praticamente il comune di Subbiano e i cittadini di Subbiano non si trovano più un bene. È un'allucinazione che nessuno di noi immaginava se potesse mai arrivare a tanto. Allora, questo edificio è Pilli, è di proprietà del comune, quindi è un bene di tutti i cittadini ed era tanto, anche nell'ultima campagna elettorale si era discusso molto, c'era stato tante polemiche su cosa fare di queste case e avevamo fatto anche diverse interrogazioni per chiedere proprio perlomeno che fosse messa in sicurezza con una tamponatura in maniera tale da conservarla e prima o poi decidere cosa fare. Le immagini credo che sono eloquenti, credo che fare una cosa del genere sia, non mi esprimo sul termine, però senza neanche, come diceva prima anche Fattoni, coinvolgerci nel Consiglio Comunale, portare l'attenzione della gente, una cosa dalla mattina alla sera, una decisione così, io credo che non sia plausibile.